Era da pare che io non mi innamoravo così tanto di un design, una 65% con una colorazione stupenda e questo peso nero le dà una classe d'eleganza incredibile Stiamo parlando della nuovissima MKC65 tastiera che costa 130€ ed è in group buy fino al 15 febbraio la trovate da Coffee Keys, vi lascio il link qua giù in descrizione la tastiera che mi è stata mandata direttamente da MyKeyClub per farvela vedere e che mi è piaciuta tantissimo Come sempre vi ricordo io sono Nicola Sayano, qua sul canale parliamo di tastiere meccaniche ma non solo, stampa 3D, computer, tantissimi argomenti se siete interessati lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale Rispetto alla MKC75 che vi ho portato due mesi fa abbiamo finalmente gli stabilizzatori inclusi secondo me una cosa gradita perché chi prende una tastiera di queste spesso non ha gli stabilizzatori deve scegliere quelli corretti, almeno qua come scelta inclusa avete gli stabilizzatori non li ho ancora provati ma ad hoc mi sembrano dei Duroc V2 classici comunque andiamo a montare questi quindi poi vi faccio sapere tutta una parte di accessori extra con un cavo in tela niente di che, anche qui andrò a utilizzare sempre i cavi di core abbiamo il connettore flessibile per il knob, i piedini, viti, gasket di vario tipo e tutto quello che riguarda il knob in questo caso nero col suo encoder e altre vitine scatolina sempre gradita e molto comodo per portarsi dietro le tastiere e vediamo subito il case che è qualcosa di spettacolare ho scelto questa colorazione rossa perché mi piaceva proprio la tonalità molto molto bellina è addirittura ancora da spellicolare perché ve la sto montando proprio in tempi rapidissimi quindi non me ne ero ancora neanche aperta con sul retro questo peso questa volta l'ho scelto nero, molto semplice ma secondo me è uno dei più eleganti carina anche la forma che gli han dato con questa che sembrano due montagne in realtà è la M di MKC viti poste sul fondo e troviamo già la daughterboard installata con il cavo da collegare alla PCB tutta la parte di PCB che si trova qui in questa zona con gli accessori che vi arrivano abbiamo diverse scelte da poter fare questa è la versione hot swap senza flex cut pacco con tutti i foam, abbiamo quello tra PCB e plate abbiamo la PFOM e quello da mettere sulla base anche a sto giro sottilissima doppia scelta di plate a sto giro con il policarbonato o con questo in alluminio nero opaco molto bellino PCB hot swap molto semplice, a questo giro a livello estetico non hanno fatto nulla di particolare troviamo però la possibilità di avere una gasket mount sulla PCB quindi volendo si può fare una build anche plateless PCB 65% che ha la possibilità di avere il caps lock spostato e qui abbiamo la possibilità di avere tutti i tasti con qui sul retro il connettore per l'eventuale encoder per il knob knob che si può mettere in due posizioni o in alto o in basso c'è anche la possibilità di avere dei badge l'unica cosa che vi dico di stare attenti è sulla parte di PCB che cambiano un pochino di formato, di spessore, di possibilità di configurazione in base a quelle comprate questa che è la versione senza flex cut con l'hot swap è da 1.6 mm ed è multi layout quindi ha lo split della barra spaziatrice volendo ha la barra spaziatrice da 7U non ha l'RGB per tasto ma supporta comunque il layout ISO ma dato che non tutte le configurazioni sono compatibili per ISO se volete questo layout date un occhio in fase di carrello a quale PCB state acquistando questa tastiera offre davvero 10.000 soluzioni diverse a livello di PCB e parlando di PCB non posso che citare lo sponsor di questo video ci accompagnerà anche per questo 2024 ovvero PCBWay con PCBWay potete stampare la vostra PCB andate nel loro sito, caricate il vostro file avete tantissime impostazioni tra cui giocare, colori, spessori potete scegliere di far assemblare direttamente a loro la PCB o farvi mandare lo stencil per saldarvi gli componenti da soli a casa ma PCBWay offre anche tanti altri servizi permette di farvi stampe 3D personalizzate lavorazioni di metalli, fresature, piegature, incisioni laser ha tantissimi servizi che possono coprire qualsiasi vostra esigenza alla parte che continuo a preferire è quella del loro marketplace piena di idee geniali potete guardare un sacco di progetti interessanti prendere spunto o perché no andare a copiare esattamente un progetto aggiungendolo tutto al carrello facendo realizzare tutti i pezzi necessari che vi arriveranno comodamente a casa vi ricordo che il link di PCBWay è qua giù in descrizione andate a darci un'occhiata questi sono per me penso dei Durock comunque ad occhio mi sembrano proprio dei Durock V2 come stile però abbiamo all'interno questi che sono dei gommini da appoggiare una volta abbiamo montato lo stabilizzatore sulla PCB per ridurre un pochino il rumore abbiamo visti negli stabilizzatori di QWERTY KEYS che avevano esattamente queste parti qui lubrificazione standard che faccio sempre con il BDZ per quanto riguarda il wire e il 205 per quanto riguarda lo stem a questo giro abbondo un pochino di più con il 205 perché non mi sembrano degli stabilizzatori super performanti e non ho voglia di aggiungere qualcosa all'interno come il Teflon quindi per ora vedrò di over lubrificare un pochino sia i wire con il BDZ ma anche qui gli stem con il 205 vi ricordo sempre che se come immagino non spendiate 30 euro per il BDZ qua potete usare un qualsiasi grasso di elettrico che costa molto meno o se non avete proprio nulla anche il 205 può andar bene semplicemente sarà meno efficace nel ridurre i rumori dello stabilizzatore ma comunque funziona mentre vado a installare gli stabilizzatori a questo giro vado ad utilizzare anche la PMOD tanto così per cambiare ogni tanto la utilizzo ogni tanto non la utilizzo e vi dico anche una cosa sul foam che andremo a utilizzare quindi quello tra plate e PCB perché molti mi avete chiesto ma come devo fare con questa parte qui della barra spaziatrice perché una volta che metto lo stabilizzatore e io questo foam dove lo passo sopra o lo passo sotto qua avete due alternative o lo piegate e lo fate passare sopra o sotto in base a come siete più comodi in alternativa si può semplicemente tagliare questo pezzo della barra spaziatrice e lo appoggiate direttamente sulla PCB in posizione sono potete anche direttura proprio toglierlo e non averlo sotto la barra spaziatrice per finire sempre sugli stabilizzatori dicevo prima c'erano questi pezzettini qua di gomma che sono da installare sotto il wire non mi fanno impazzire perché a volte danno qualche problemino rendono lo stabilizzatore troppo duro se troppo bloccato per quanto riguarda la scelta degli switch ero particolarmente indeciso volevo utilizzare questi che sono degli switch corals lineari molto carini però sono silent quindi non vorrei darvi una scelta particolare con degli switch silent quindi andiamo a usare questi che sono i corbs sempre switch lineari da 62 grammi già solo a livello estetico mi sono piaciuti tantissimo questi corbs sotto le dita sono carini mi dico già suonano bene poi li ho presi in offerta da my keyboard con la svendita quindi li ho pagati pochissimo tipo 2 euro e mezzo a switch quando costerebbero circa 7 euro e sono lubrificati di fabbrica con una molla da 62 grammi hanno una configurazione molto standard con lo stem in pom il top e il bottom in nylon vado a utilizzare comunque il foam e qui vediamo quello che vi dicevo prima su questa parte quindi potete o farlo passare sotto in questo modo e sarà una rottura ve lo dico già sarà una rottura che se fate così comunque puoi incastarla dentro la tastiera se no potete semplicemente spezzare questa parte in modo da tenerla poi separata e via più comoda poi questa parte qui la potete proprio del tutto rimuovere e vi semplificate tantissimo la vita se no avrete sempre il foam spostato mai perfettamente centrato sarà una rottura di scatole come plate tanto che non lo utilizziamo da tantissimo direi che andiamo con questo alluminio altro consiglio che vi posso sempre dare quando inserite gli switch tenete un dito dietro sull'hot swap in modo che se fate pressione non si dissalda può capitare è un casino se succede che poi dovete risaldarvelo quindi sicuramente meglio avere la mano dietro che vi aiuta ad evitare questo problema voi non capite quanto sia bello tornare a installare gli switch in un plate come quello di alluminio che è bello rigido e vi evita un sacco di scocciature in fase di installazione dove il plate si muove gli switch non sono installati correttamente molto più facile e molto più comodo vi faccio comunque velocemente vedere come si installerebbe il knob qui abbiamo la mascherina e la parte sopra che vanno installate nella tastiera qui c'è il ribbon cable che va semplicemente inserito in questo piccolissimo connettore che abbiamo qui si inserisce viene fatto passare nel foro vi prendo quest'altro plate come esempio ve lo posizionate proprio come se fosse un tasto che poi rimarrà fermo sotto il plate rimarrà ancorato poi ando ad avvitare sopra la copertura del knob a quel punto rimarrà bloccato altra particolarità occhio che non tutti gli switch hanno la stessa direzione alcuni sono piegati di 90 gradi alcuni come questo qua di 180 perché per farlo spazio al connettore hanno girato alcuni switch torniamo a prendere la nostra tastiera e dobbiamo come prima cosa mettiamo i piedini ma così non rischiamo di regare il peso per aprire la tastiera abbiamo la chiavetta inclusa questo giro MKC ha sceso di fare tutte i microviti adesso che ve l'apro anche la parte interna è comunque realizzata molto bene non ci sono sbavature di sorta quindi solita qualità MKC la parte sopra è sempre leggerissima è un frame leggerissimo la parte sotto soprattutto grazie al peso pesa abbastanza se no vedendo l'alluminio sarebbe abbastanza leggera ho scelto di utilizzare tutti i fogli quindi andiamo a mettere anche questo qua sulla base anche se è talmente leggero che è praticamente inesistente prima di connettere la PCB andiamo a mettere i gasket ne abbiamo di due tipi come dicevo prima ci sono questi che sono per la PCB oppure abbiamo questi classici socket da inserire nel plate altra alternativa di montaggio che si può utilizzare su questa che si nota sempre qui dal plate è possibile montarla top mount quindi qua abbiamo i fori ed è possibile avvitare direttamente il plate inseriti tutti i gasket andiamo a collegare la nostra PCB direi che la vado a inserire direttamente nel top così vi ricordo poi che questa mia versione è quella senza wireless se scegliete la versione wireless dietro il vano del peso avrete anche il posto per le batterie veniamo ora al più classico dei problemi io adoro questi case rossi ma che cosa ci mettiamo su un case rosso così? ed è sempre un casino scegliere colore che assomiglia molto a GMK Bento che avevamo già utilizzato però sono i GTK anche questi recuperati dallo sconto di My Keyboard case di trasporto bellino per dei keycaps davvero completo keycaps che mi trovano un po' in contrasto perché trovo gli alfa molto belli è comunque un double shot fatto bene nulla da dire però le scrittine non lo so ci sono meno sbavature ovviamente di keycaps economici però non sono neanche così belle sono un po' tutte piccoline non so mi sembrano un po' incoerenti così piccole rispetto alla leggenda che comunque è abbastanza grande però sono super solidi ed è comunque un set che costerebbe un sacco di soldi avendo tra l'altro io bento di GMK possiamo anche fare un confronto uno a uno visto che sono due colorazioni più o meno simili qua ce l'ho sulla zoom 65 effettivamente il tono dei colori c'è molto vicino anche se qua in GMK proprio il colore bianco era leggermente sfumato io poi avevo la versione con leggende giapponesi e quello che è davvero differente è il blu che è molto più scuro nei JTK rispetto a quello dei GMK che è molto molto più chiaro sul blu in realtà mi piace di più questo qua di JTK un pochino più più acceso per le leggende GMK vince su me a mani basse sto scrivendo con lei da diversi giorni sotto le dita questi keycaps in realtà mi sono piaciuti parecchio hanno una finitura effettivamente diversa da quella dei GMK però non mi dispiace ha comunque un bel feeling e anche l'impatto sonoro è interessante andiamo ad ascoltarla insieme a questo giro mi sono limitato al sound test che a me è piaciuto di più ovvero i gasket piena di foam questo perché è simile comunque alla Iris e l'altra MKC75 ha un suono abbastanza deciso acuto abbastanza forte e non tende mai ad avere un suono chiuso anche piena di foam e mi piace comunque è un bel suono pulito insomma ha fatto un bel lavoro dall'impatto sonoro e avevo già visto l'altra volta mettendo togliendo il foam facendo top mount pcb mount diciamo che più o meno il timbro sonoro della tastiera è questo cambia quanto suona forte ma più o meno siamo sempre lì quindi non ne vale la pena secondo me sperimentare troppo se sapete già cosa cercate se invece siete la vostra prima tastiera questa vi farà divertire da matti perché avete 12.000 configurazioni possibili potete sperimentare con tantissime cose occhio sulle le vitine che sono tante tante piccoline per il top mount e poi tra l'altro avete la possibilità comunque di aggiungere il knob il taglio che mi ha sorpreso sono i stabilizzatori perché effettivamente suonano molto bene unico appunto ho dovuto togliere dall'invio quel piccolo gommino sotto perché rimaneva schiacciato non tornava su completamente risultava lento e in generale la barra risulta ancora un pochino lenta forse è un po' troppo quel gommino serve meglio toglierla però in generale anche l'invio che adesso non ha il gommino suona bene quindi comunque gli stabilizzatori promossi sembravano dei durock ma mi sembra che suonino meglio dei durock quindi comunque tanta roba fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate io vi lascio due video della stessa azienda produttrice la MKC75 e la Iris TKL Iris 80 due tassele comunque mi sono piaciute molto il rapporto qualità prezzo di questa marca è sempre incredibile noi ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video